Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato allo studio delle aerodinamiche di base. In particolare parlerò dell'accumulatore idraulico. Vedremo un semplice esempio di simulazione di un circuitino con un accumulatore e realizzato e simulato con il software FluidSign. Bene, andiamo pure avanti con la prossima slide. Un accumulatore idraulico sono delle semplici informazioni introduttive a quello che è un accumulatore idraulico. In un breve video è impossibile e diventerebbe anche noioso poter parlare approfonditamente di argomenti di questo tipo. Gli accumulatori idraulici cosa servono? Sono degli accumulatori di energia. Energia che ricevono dal circuito per poi restituirla quando è necessario. In pratica è un serbatoio che viene riempito di olio in pressione e quando è necessario, vedremo quando sono i casi in cui è necessario utilizzarlo, viene restituito al circuito. Perché questo vengono impiegati? Per compensare gli eventuali tre filamenti degli impianti oliodinamici che ci sono sempre, dove è necessario? Anche perché la pressione rimanga costante nell'impianto, possiamo utilizzarlo come riserva di energia, come dicevo prima, o come smorzatori di impulsi, ad esempio per attutire picchi di pressione e colpi di ariete. Anche come compensatori di volume, in caso di variazioni termiche, insomma, per moltissimi motivi. Come devono essere installati? Generalmente sono installati in parallelo all'attuatore. Alcune tipologie di accumulatori idraulici, ciascuno con le sue caratteristiche peculiari, distintive. C'è l'accumulatorio a pistone. C'è un pistone che divide il lato del fluido da quello del gas. Gas perfetti, perché sono perfetti per applicazioni ad alta pressione. sono capaci di gestire grandi volumi di fluido. Abbiamo quelli a membrana, che invece separano il fluido idraulico dall'azoto, tramite una membrana elastica. Queste sono ideali per applicazioni, che richiedono invece piccoli volumi di fluido, e sono noti per la loro risposta rapida. Poi ci sono quelli a sacca, e una socca di gomma che separa il fluido dall'azoto, e sono utilizzate anche per evitare contaminazione del fluido. Allora a questo punto mi chiedo, ma come faccio a scegliere? Dipende dall'esigenza dell'applicazione, dalla capacità dell'accumulatore, dalla pressione di lavoro, e da altri fattori tecnici. Ovviamente nel caso di scelta di lavoro con accumulatori, bisogna tener conto dell'impianto, del dimensionamento, e di tutti gli altri componenti dell'impianto, e quindi bisogna scegliere il giusto accumulatore, tramite il suo dimensionamento, anche attraverso cataloghi tecnici. Ma andiamo pure avanti. Ecco, vediamo l'accumulatore a sacca e a pistone. Questo è un dispositivo che sfrutta la comprimibilità del gas, e qua vediamo c'è l'azoto sia in un caso che nell'altro. Quindi sfrutta la comprimibilità del gas contro l'incomprimibilità dell'olio. E serve, come dicevo prima, per accumulare l'energia di pressione e restituirla quando è richiesto. Perché viene usato l'azoto? Perché è un gas in colore, in odore, inerte, non è infiammabile, ed è più diffuso nell'atmosfera terrestre. Inoltre non reagisce a contatto della gomma o dell'olio, anche se sottoposto ad altre versioni. Insomma, perfetto per questo uso. Assolutamente vietato impiegare l'ossigeno. Cioè, guarda, metto dell'ossigeno a posto dell'azoto, per carità, perché può essere causa di innesco di possibili esplosioni. Quindi vediamo qui la differenza tra c'è una valvola per il carico dell'azoto, viene caricato l'azoto, quindi con una precarica, perché ovviamente deve avere una precarica iniziale, invece della parte sotto c'è la valvola antiestrusione e la connessione, come possiamo vedere, al fluido idraulico. Lo stesso funzionamento per quanto riguarda, invece, l'accumulatore a pistone. Sulla parte destra possiamo vedere i tre modelli a sacca, a membrana e pistone. il suo simboletto. Ecco, ho creato un neologismo, ho cambiato il nome da membrana in membrana, scriverò la cruscola affinché lo includa nel suo dizionario, e quindi non è più un mio errore, ma diciamo che è un avanzamento della lingua italiana. Scusate l'errore, ma quando si lavora si sbaglia. Fasi funzionamento dell'accumulatore a sacca, perché poi è quello che troviamo nel nostro fluido sim. Abbiamo A, B e C. Per quanto riguarda la posizione A, è la posizione di precarica. La pressione E, la indichiamo con P0, quella di precarico, e il volume, volume 0. La valvola a fungo al lato olio è chiusa per evitare l'estrusione della sacca. Nella posizione B, invece, abbiamo la minima pressione di esercizio, P1. Tra la sacca e la valvola del fluido deve rimanere una minima quantità di fluido per impedire la chiusura della valvola. Perciò la pressione minima di esercizio deve essere maggiore di P0. Ovviamente il volume sarà volume 1. La posizione C è quando abbiamo la massima pressione di esercizio. P2 è la variazione P2. E la variazione di volume del fluido accumulato cambia, ovviamente, in relazione alla differenza tra la pressione minima di esercizio P1 e la pressione massima di esercizio P2. Comunque, in parole povere, abbiamo posizione di precarica, posizione con pressione minima di esercizio, con pressione massima di esercizio, ovviamente l'azoto è comprimibile, l'olio no, questo si carica con un certo volume di fluido, di fluido che sarà poi messo a disposizione nell'impianto nel momento del bisogno. Il funzionamento di un accumulatore al pistone è esattamente lo stesso. Accumulo del fluido, terza immagine, il rilascio del fluido. Scelta dell'accumulatore. Questa è una slide abbastanza semplice, non vuole dare consigli applicativi, ma semplicemente conoscitivi. Allora, sono alcuni fattori da considerare. Innanzitutto, nella scelta, cosa devo considerare? La pressione massima dell'impianto, che è indicata nei dati dell'impianto, cioè la pressione massica che troviamo nei dati tecnici dell'accumulatore, non deve essere mai superata. Ad esempio, qui ho qua c'è una S1, pressione di esercizio massimo 360 bar, ecco, non posso utilizzarlo per 380-400, anzi, addirittura la pressione di lavoro dovrebbe essere circa l'80% della pressione massima, quindi un 20% in meno da quella di esercizio. Secondo punto, deve garantire un lavoro ottimale, la pressione minima di lavoro dovrebbe essere circa 10% superiore alla pressione di precarica dell'accumulatore. Il volume dell'olio a disposizione è da realizzare in ogni singolo caso. Questa tabella, che è stata ricavata dal catalogo EPE, fornisce le caratteristiche generali, appunto, per la scelta dell'accumulatore. AS02 significa che è un accumulatore con capacità in litri di 0,2 litri e questa è la sua pressione di esercizio. 0,7 significa che questo è il suo volume di azoto in litri e questo qua è la sua pressione di esercizio. E così via. Fino ad arrivare a S55 con volume di azoto in litri da 50 litri, pressione di esercizio massima a 360 gradi. vediamo che la pressione aumenta, cioè la parte che rimane costante da S1 fino ad S55, aumenta a 550 quando il volume di azoto del nostro accumulatore è più piccolo e minore. Vedremo adesso un piccolo esempio, vedremo cosa faremo in questo come simulazione con fluidism. Un esempio applicativo all'apertura e la chiusura di una pesante porta metallica o quello che volete effettuata per mezzo come vediamo nell'immagine di sinistra per mezzo di un cilindro e olidinamico a doppio effetto. L'operazione di apertura e di chiusura deve essere garantita anche in caso del resto del motore elettrico. Come vediamo nell'immagine di sinistra i componenti che ci serviranno sono un cilindro a doppio effetto una valvola di vitegno e una valvola di regolatrice di flusso valvola di strozzamento. Ci sarà anche una valvola di distribuzione 4.2 il gruppo accumulatore e il gruppo di alimentazione. Quindi nel caso che il gruppo di alimentazione il motore elettrico abbia un arresto la porta comunque deve aprirsi e chiudersi ancora almeno per un certo numero di volte e questo è dovuto al fluido conservato in pressione conservato nel nostro accumulatore. Ma adesso andiamo pure a vedere la realizzazione dello schema e la simulazione con il nostro FluidSIM. Eccoci qua nel nostro software per realizzare lo schema e la simulazione FluidSIM vado a prendere i componenti necessari mi serve un cilindro a doppio effetto ecco lo mettiamo qui una valvola di distribuzione prendo una valvola 4.2 valvola 4.2 vediamo se c'è già pronta sì ok questa va bene una 4.2 monostabile vediamo che la pressione spinge spinge il pistone quindi la porta spinge la porta in chiusura se voglio l'apertura devo operare sulla commutazione della valvola vado a prendere il mio unità la mia centralina metto qua adesso tra la mia valvola di distribuzione e la mia centralina posso andare a mettere per maggior sicurezza una valvola di non ritorno ecco metto qua una una check valve così e così in modo che non torni all'asservatorio ma vada semplicemente allo scarico quando è necessario questo lo metto al mio scarico adesso devo andare a prendere i componenti necessari per il nostro accumulatore vedete che posso prenderlo questo qua posso prendere questo qua vado a vedere la precarica 10 bar precarica 10 bar che ovviamente nella misurazione inglese non so quanti pub corrispondono ma ce lo faremo spiegare posso prendere questi e poi prendere i componenti che mi servono oppure fluid sim ci mette a disposizione già il gruppo eccolo qua che facciamo meglio dove abbiamo la nostra valvola che servirà a fare in modo che carichi il nostro osservatorio il nostro accumulatore poi lo esclude e poi possiamo utilizzarlo quando il motore non funziona facciamo funzionare la nostra riporta attraverso la riserva che troviamo qui c'è da completare i collegamenti tra il gruppo accumulatore e il nostro impianto che come abbiamo detto bisogna collegarlo in parallelo un'altra cosa che mettiamo per più che maggiore sicurezza è per fare in modo che questa valvola regolatrice di flusso unidirezionale in una direzione regola il flusso sull'altra invece è libero consente la carica del nostro accumulatore in maniera lenta in base all'apertura o chiusura quindi regolabile della nostra condotta invece nella fase di scarica quando il serbatoio viene scaricato per essere utilizzato passi attraverso questa questa condotta e quindi sia una scarica più veloce bene andiamo a completare i nostri collegamenti e questo qui lo vado a collegare sulla mia pressione ovviamente questo deve venire deve venire dalla pressione così eccolo qua lo mettiamo qua una bella pressione anche così ma lo lasciamo così dai tanto non si offende abbiamo adesso anche il nostro T il nostro T con che cosa lo andiamo a collegare il nostro T lo andiamo a collegare con con se me lo lasci fare vado a collegarlo vado a collegarlo qua lo alziamo un attimo altrimenti se riesce più niente era meglio che non lo toccassi va bene se non ho commesso errori ed omissioni il circuitino sarebbe completo andiamo a testarlo vado a mandare anzi prima facciamo opzioni simulazione vado a rallentare l'esecuzione con un ritardo quindi non velocità normale reale a 1 a 1 ma facciamo 1 a 5 lo diminuiamo di 5 volte andiamo a simulare ok mi dice ci sono delle connessioni aperte si ok questa qui che devo chiuderla ok shut up connection lanciamo di nuovo ci sono linee sovrapposte si è normale se ci deve passare sopra è così vuoi che funzioni lo stesso giustamente vediamo che già in fase di partenza attraverso questa valvola la mia porta è aperta e il mio serbatoio ha pressione 0 perché non è stato ancora caricato in quanto si trova nella posizione centrale facciamo funzionare il nostro impianto vedete apro la porta e la porta si chiude ok adesso vado a fare in modo che in questa posizione vedete che mi sta caricando il mio accumulatore per quello motivo perché qui il gel è il cilindro e fuori quindi la pressione oltre ad andare al cilindro va anche al mio serbatoio il mio accumulatore ecco infiego un po' di tempo perché la simulazione è rallentata diamo il tempo di prendere un caffè tornare e forse ce la facciamo ecco dovrebbe arrivare 59,9 ma uno se lo tiene come così come come tassa quindi un bar in meno è il caffè che ci siamo bevuti prima adesso lo rimettiamo in questa posizione e continuiamo anzi simulazione troppo lenta simulazione facciamo 1 a 3 altrimenti facciamo notte ed eccolo qua ecco vedete che il serbatoio rimane imperterrito poi mi chiedo dove sia sta porta perché continua ad aprirsi e chiudersi non ho capito cos'è comunque vediamo il percorso vedete qui che passa il fluido potrei anche aprire adesso è messa al 100% se lo metto al 0% qui prima che si carichi ci vuole due giorni e mezzo adesso andiamo a vedere cosa succede se il motore non dovesse funzionare ma il problema è che il motore in simulazione non possa impedirgli di funzionare così dobbiamo trovare un modo per far sì che simuliamo il non funzionamento e il blocco del motore come facciamo faccio così alziamo tutto eccolo qua tolgo questo collegamento e qua vado a prendere una valvola che è una semplice valvola farfalla per gli inglesi butterfly vado a ruotarlo un attimo ecco vediamo se ci sta se non ci sta ce la facciamo stare lo stesso ecco questa valvola permette l'apertura o la chiusura totale della nostra valvola così è tutta aperta e così è tutta chiusa la lasciamo la lasciamo adesso tutta chiusa perché dobbiamo simulare che il motore in questo momento è bloccato quindi vado qui sempre i soliti messaggi voglio provare a farlo funzionare anzi adesso avendo aggiunto una nuova valvola da 0 a 100 mi ha azzerato il mi ha azzerato il mio osservatore perché era una nuova simulazione avendo aggiunto la valvola nuova simulazione nuova schermina ok va bene quindi faccio così adesso abbiamo capito simulazione la mettiamo 1 a 1 non se ne parli più valvola all'apertura 100% mettiamo così in modo che si carichi sovrapposto si 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 ok la mettiamo così che si carichi velocemente dai che ce la fai sei insalita ma ce l'hai fatta ok chiudo questa qui e ovviamente come prima non incide sulla mia sul mio osservatore adesso simuliamo che il motore invece di funzionare non funziona problema al motore quindi qui il fluido non può passare a questo punto dovevi intervenire con il mio accumulatore faccio così vedete non succede niente perché non ho aperto il mio accumulatore lo metto in questa posizione e adesso 1 2 3 ecco ed è finito ed è finita la pressione che avevamo a disposizione nel serbatoio ovviamente più grande il serbatoio proporzionalmente all'impianto della pressione che è circa la pressione dell'impianto maggiore sarà il funzionamento del circuito anche senza il motore abbiamo visto quindi il funzionamento del nostro accumulatore a questo punto bisogna intervenire perché bisogna riparare il motore altrimenti chi è di là rimane di là chi è di qua rimane di qua ed è una separazione consensuale abbiamo deciso ognuno stia nella sua parte e aspettiamo che il motore permetta di nuovo di rincontrarsi per bersi assieme un altro caffè vi ringrazio per la visione del video spero che vi sia piaciuto non è stato un video di grandi pretese volevo semplicemente arrivare al punto di spiegare l'utilizzo perché è importante avere anche un accumulatore in un impianto quando è importante averlo la sua funzionalità con un semplice schemino vedere il funzionamento non sono consigli tecnici non sono consigli per realizzare un impianto perché per realizzare un impianto non bastano 10 minuti non basta un semplice schema ma è una operazione più complessa dove richiede calcoli dimensionamento e profonda conoscenza dello studio dell'olodinamica comunque per iniziare a capirne di all'olodinamica mi sembra sufficiente vi ringrazio vi auguro una buona continuazione con la vostra navigazione ah dimenticavo se vi è piaciuto mettete un like non mi offendo e iscrivetevi al mio canale come ho detto altre volte a voi non costa niente per me è motivo di grande soddisfazione perché mi fa capire che siete affezionati al canale e alla qualità dei miei video buona continuazione grazie